Una cosa calda, una cosa golosa, un intrattenimento e un biglietto con parole gentili. Questo è il contenuto delle scatole di Natale, l'iniziativa che qui a Verbagna è stata lanciata dal gruppo civito Comunità VB e che ha assunto proporzioni oltre le aspettative. Da un'iniziativa nata da un gruppo di amici, le scatole di Natale sono diventate un vero e proprio fenomeno, ne avete raccolte duemila. Sì, un vero e proprio fenomeno, abbiamo raggiunto le duemila scatole, forse l'abbiamo anche superato. E devo dire che queste sono le cose che in un periodo freddo, come il mese di dicembre, scaldano il cuore. Perché vuol dire che la gente ha ancora voglia di dare solidarietà a chi magari è un po' più in difficoltà, ha voglia di dare un segno di vicinanza a chi si trova in un momento un po' difficile. Adesso parte la distribuzione di queste scatole che sono state confezionate, non solo a Verbagna, ma un po' da tutta la provincia. Sì, adesso partiremo, oggi è partita il primo camioncino con questi regali, la parte più difficile è quella poi della distribuzione. Sia perché cercheremo di essere il più istituzionali possibile, rivolgendoci a comuni e associazioni riconosciute, sia perché è un po' l'anno zero, con un successo che non ci aspettavamo noi, nemmeno noi. Devo dire che l'aiuto che ci è stato dato anche dalle politiche sociali, con Marinella Franzetti, da Chiara Fornare, da tutte le altre associazioni che ci sono state vicine e che ci sono ancora vicine, come le parrocchie, è una cosa che ci aiuterà molto in questa distribuzione. Ecco, le scatole sono per bambini, uomini e donne. Bisogna indicare sulla scatola il destinatario. Sì, noi abbiamo chiesto di fare una scatola uniforme come contenuto, come prodotti, e poi vengono suddivise per bimbo, bimba, tanti hanno indicato anche l'età, uomo, donna, perché pensiamo anche non solo ai bambini dove abbiamo ricevuto tantissime scatole, ma anche magari alle persone anziane che sono sole, alle quali vogliamo anche a loro far pervenire una scatola di Natale. Avete anche lanciato un appello, se qualche associazione sa dove potrebbe esserci bisogno, voi siete disponibili? Sì, sì, assolutamente. Se c'è qualche associazione che ci sa indicare dove poter distribuire tramite loro queste scatole di Natale, noi siamo qui disponibili e se possiamo aiutare qualcuno è la cosa più bella che ci sembra di poter fare.